Sera con l'apertura del rupino mettiamo un po' di scorzetto di limone un po' di prezzieme un po' di olore prezzo ecco intanto che abbiamo le crozze poi ci buttiamo i ganderi sempre una bella spruzzata di rezzeno forse la scorza di limone vediamo una spruzzata di vino ci siamo quasi ragazzi guardate che pentoloni mamma mia che roba sono arrivati i più belli ciao bella ragazzi ci siamo quasi ciao Ale è sacra il più figo del mondo grazie Ale anche ora ci scialiamo guarda qui ci siamo adesso tutto dentro la pasta ragazzi ci siamo quasi ragazzi sarà un video un po' lungo mamma mia che roba adesso mischiamo dentro la cozza e il gioco è fatto ragazzi 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 a voi il risultato finale oh non ho pensato spettacolo ma ci scialiamo ci siamo buona domenica ragazzi buona domenica ragazzi buona domenica ragazzi buona domenica ragazzi Grazie.